Cinque, sei mesi fa ho cominciato ad avere dei blocchi, del freezing veramente, che mi davano delle, creavano delle disabilità enormi. Infatti racconto un episodio, una notte dovevo andare in bagno un'ora e mezza, non sono riuscita a fare un passo. Mi veniva anche la paura, perché abito adesso volare, quindi avevo delle difficoltà. La mamma prima di sottoporsi al trattamento gondola aveva spesso momenti di blocchi e di freezing in cui non riusciva a camminare da sola. Sto usando gondola da 3-4 mesi, due volte a settimana, 90 secondi di applicazione. Appena applico la gondola, veramente mi sembra di avere le ali ai piedi, sinceramente. Dopo gondola invece questo tipo di problemi sono venuti a cessare. Adesso la mamma facendo regolarmente il trattamento cammina bene. Il freezing non fa parte più della mia vita, veramente non so più cosa sia.